Un'avvertenza che si trascina già da quasi un decennio, quella della Blutech, l'azienda che produce telai e altri componenti per la produzione dei furgoni Ducato. Qualche mese fa la svolta con l'acquisizione da parte di MSRL e di Ingegneria Italia per la parte progettuale, ma ad oggi nulla è stato messo nero su bianco, mentre dal Ministero dello Sviluppo Economico si continua a seguire con estrema attenzione la trattativa. Il problema è che in una sorta di reazione a catena questa situazione rischia di incidere fortemente sulla produzione della Sevel, principale commessa, costretta in questi giorni a bloccare alcuni turni di lavoro per via dei guasti e macchinari Blutech per i quali da tempo non viene fatta manutenzione. Preoccupati i sindacati per il destino dei 230 lavoratori dello stabilimento di Etessa, ma anche per i 30 dello stabilimento di Potenza, gli 80 progettisti in allo stabilimento in Emilia. Noi abbiamo già fatto una richiesta di incontro per sollecitare le due società a dirci a che punto è lo stato dell'arte per quanto riguarda questo passaggio, ma soprattutto chi dovrebbe subentrare deve rimettere in mano un impianto che non ha mai avuto investimenti, parliamo di stampaggio, lamiera e quant'altro, e dovrebbe fare investimenti, investimenti certi perché un'azienda come Sevelle non può stare legata alle peripezie di chi non ha interesse a fare imprenditoria. Il rischio forte è che la Sevelle cambia fornitore, a quel punto sarebbero a rischio non solo i 230 in Abruzzo, ma gli oltre 100 dipendenti sparsi in tutta Italia. Noi dobbiamo tenere a mente che dietro questa azienda ci sono 230 lavoratori qui a Etessa, ne sono 30 a Tito Scalo e a Potenza e circa 80 progettisti che stanno su al nord, per cui l'occupazione è il primo posto, dobbiamo trapassare questo momento particolare salvaguardando l'occupazione e non perdendo le commesse perché se Sevelle cambia fornitore sarà un dramma e soprattutto non sapremo dove andremo a parare. Ecco Grazie a tutti.